Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo subito i titoli del nostro giornale Tre bande specializzate in furti nei centri commerciali sono state individuate dalla polizia di Fano Sette le persone arrestate Prima ruba le piante dalle fioriere di un negozio Poi, sentendosi scoperta, si pente e le restituisce con tanto di biglietto di scusa Passa lo yacht sulla Flaminia all'ora di punta e il traffico va in tilt Numerosi gli autobus carichi di studenti bloccati in strada e costretti a raggiungere la scuola a piedi Sabato alla Villa del Balì, la BCC di Fano ha dato il benvenuto ai nuovi nati Ha consegnato 145 bonus bebè ai soci e ai dipendenti dell'istituto di credito Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 La polizia di Fano ha arrestato sette persone appartenenti a tre bande Agivano all'interno dei centri commerciali Fondamentali le immagini di video sorveglianza posizionate e dislocate in città Avevano preso di mira i negozi del centro commerciale Fano Center Le tre bande distinte tra loro sgominate dagli agenti del commissariato di Fano I poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Seretti Sono riusciti a rintracciare tutti i componenti Grazie all'analisi delle telecamere di video sorveglianza presente in città Attivate dal comando dei vigili urbani Fondamentale anche la collaborazione delle agenzie di sicurezza Che operano nel quartiere di Bellocchi In particolare la prima banda composta da soggetti provenienti dal Sud America È stata accolta nella flagranza di reatto lo scorso mese di luglio All'interno del centro commerciale I due ladri che avevano asportato occhiali e merce varia per un valore di 15.000 euro Dopo un inseguimento in auto terminato a Pesaro Erano stati bloccati mentre il terzo si era dato alla fuga Le successive indagini hanno portato all'identificazione dell'ultimo componente Anche egli sudamericano Che rintracciato a Roma nei giorni scorsi È stato arrestato su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal Tribunale di Pesaro La seconda banda invece era formata da due rumeni Che ad agosto avevano rubato numerosi articoli griffati All'interno del Fano Center Bloccati dagli agenti al casello autostradale I due stranieri sono finiti in manette Infine il terzo gruppo è composto da una ragazza di 20 anni Residente a Urbino E da un 25enne macedone che ospitava in casa Sono ritenuti irresponsabili di numerosi furti Di capi di abbigliamento griffati Consumati in più occasioni all'interno della stessa galleria Durante la perquisizione effettuata nella loro abitazione È stata recuperata la merce per un valore di circa 500 euro Secondo il modus operandi ricostruito dai poliziotti La giovane dopo aver prelevato i vestiti dagli espositori Con la scusa di provarli Entrava nei camerini Qui veniva raggiunta dal complice Che rompeva con le mani i sistemi antitaccheggio E nascondeva l'aria furtiva dentro un grosso zaino Ieri dopo il quarto colpo in due settimane E messo a segno all'interno del Conad Anche per loro è scattato l'arresto Restiamo a fano e continuiamo a parlare di furti E adesso vi raccontiamo una storia La storia di una donna Una donna sulla cinquantina Che è stata scoperta da una telecamera Mentre portava via, rubava letteralmente Quattro piantine, quattro fiori Piante di fiori davanti ad un negozio Che vende abiti da sposa Il furto è avvenuto in due momenti diversi Lei probabilmente si è sentita scoperta E questa mattina ha riportato la rifurtiva Con tanto di biglietto di scuse Un furto di fiori davanti a un negozio Con tanto di telecamere che l'hanno immortalata È successo domenica sera ai danni del negozio La sposa di Eugenia sulla statale Adriatica Fano Una signora bionda sulla cinquantina Con minigonna e felpa Poco prima delle 21.30 È arrivata a bordo di un'auto station wagon Si è diretta verso il locale Ha preso due piante di Di Pladegna Posizionata di fronte all'ingresso E se ne è andata Il mattino successivo poi è tornata alle 6.50 Per finire il lavoro Rubare le altre due rimaste nelle fioriere Abbiamo capito subito che avevamo Numero di targa Foto della persona E via discorrendo Quindi abbiamo pensato Che cosa potevamo fare Eravamo un pochino in imbarazzo Abbiamo detto Pensiamoci un attimo Poi nella pausa pranzo Invece ci siamo accorte Che la signora Ha portato via I nostri fiori In due tempi Ci ha studiato Ci ha pensato Molto bene A quello che stava facendo E ci siamo un po' arrabbiate Anche perché Una bella signora Benestante Cioè quindi adesso Non È un gesto Un pochino Troppo forte Un po' Che ci ha lasciato un po' Così Vero Roby Le sorelle Ottaviani Hanno deciso di sporgere denuncia Ma la vicenda Non si è conclusa lì Perché questa mattina Hanno ricevuto Un'altra sorpresa Davanti a una serranda Del vicino La sorpresa è stata Carina perché io passavo Con la macchina Per portare mia figlia A scuola E ho visto Passando qua Con la coda dell'occhio Delle buste nere Con dei fiori che spuntavano Ho detto Sta a vedere E in effetti Quando poi sono Venuta in negozio Queste buste Contenevano i nostri fiori Contengono i nostri fiori Con un bel cartello Che è questo qua Mi scuso Per dono Per Lucianne Roberta La signora evidentemente Si è resa conto Di essere stata scoperta E identificata Anche grazie ai post Pubblicati sul social network Nei quali si raccontava L'accaduto Oltre al fatto Che pure alcuni residenti Erano riusciti A scattare delle foto E cogliere la donna Sul fatto Ora considerato Il biglietto di scusa Le titolari Stanno decidendo Se ritirare la denuncia O se procedere comunque Per vie legali Temiamo che non sia stata La prima volta Hanno aggiunto In un post su facebook Ma speriamo per lei Che sia l'ultima Perché potrebbe incontrare Persone meno tolleranti Di noi E finire nei guai Non è che il fiore Non è una cosa Impegnativa da comprare Uno pensa più a un dispetto Però una signora Che si avvicina Ne prende Uno da un vaso E uno dall'altro E il mattino dopo Torna per finire l'opera E prendere le altre due rimaste C'è proprio pensato L'hai studiata E' questo che ci lascia Un po' basite Per quattro fiori Il costo di 15 euro Pianta Forse 20 Adesso non ricordo Quanto l'abbiamo pagata Però è una cosa E poi comunque In vetrina c'è il cartello Locale sottoposto Video di sorveglianza Quindi voglio dire Ci ha lasciato un po' così Un po' basite Sinceramente Non ci piace Far del male Preferiamo Dimenticare le cose Sicuramente Però in questo caso Ancora Dobbiamo fare Il nostro focus Perché La cosa Ci ha un po' sconcertate E la questura Di Pesaro E Urbino Ha Sospeso L'attività Di un Noto bar Del centro storico Di Fossombrone Dopo una lunga Attività D'indagine Dei carabinieri Della compagnia Di Fano Contro lo spazio Di stupefacenti L'operazione Denominata Bunker Il 4 giugno scorso Aveva portato All'arresto Di 7 persone Alla denuncia Di altri 15 Dando un duro colpo Allo spazio Di stupefacenti Sull'intera Valle del Metauro Gli ulteriori Accertamenti Hanno permesso Ai militari Di accertare Come il locale Forsempronese Fosse frequentato In maniera assidua Oltre che Dalla normale clientela Anche da persone Dedite allo spazio Al consumo Di sostanze Stupefacenti E adesso Parliamo Della scuola E del ritorno In classe Di migliaia Di studenti Questa mattina Siamo tornati A vedere Un po' La situazione In particolare Ci siamo occupati Del settore Trasporto pubblico Sentiremo anche Un'intervista Al direttore generale Di Adriabus E poi Parleremo E abbiamo incontrato Anche Gli studenti All'uscita Di scuola Di un istituto Tecnico Commerciale Con la ripresa Delle scuole Iniziano anche I primi problemi Riguardanti Il trasporto pubblico Nonostante infatti Siano molti Gli studenti Che si sono recati A scuola Con biciclette Motorini Tanti sono quelli Che hanno scelto Di utilizzare I mezzi pubblici I quali Si sono trovati Per la prima volta A gestire flussi Di migliaia Di studenti Che secondo Le segnalazioni Avrebbero riempito Le corriere Autobus pieni Ben oltre La capienza Designata Dell'80% Tram che non Effettuano Alcune fermate E studenti In piedi Nonostante sia Vietato Risponde a riguardo Massimo Benedetti Direttore Dell'Adriabus Quest'anno Naturalmente La nostra attenzione È ancora più Alta A causa Delle Limitazioni Imposte Al carico Sui mezzi Che ricordiamo Non è Il mantenimento Del distanziamento Del metro I nostri Autobus Possono essere Caricati Con un limite Pari all'80% Dei passeggeri Previsti Dalla carta Di circolazione Quindi Con il distanziamento Non c'entra nulla Naturalmente La percezione Quando uno Vede un mezzo Con delle persone In piedi Eccetera È quella Di un mezzo Diciamo così Affollato Ma per tal motivo Ci stiamo Adoperando Dai prossimi giorni Sin da partire A domani Eccetera A mettere ulteriori Veicoli In strada E quindi Anche là Dove Quella percezione Di affollamento Maggiore Speriamo Di poterla Fare scemare E viaggiare In modo da dare Un messaggio Di tranquillità A tutti coloro Che utilizzano Il mezzo pubblico Approfitterei Anche per invitare I ragazzi E comunque I nostri clienti Ad indossare Tutti Immancabilmente E senza esclusione La mascherina Perché questo È quello che Prevedono le norme Alcuni hanno segnalato Delle fermate Non effettuate Da parte dei mezzi Che cosa è successo? Il mezzo Nel proprio tabellino Di marcia Sa che Per arrivare Al famoso 80% di carico Deve effettuare Le prime Quattro fermate Di una linea Perché subito dopo Ce ne sono altri Che faranno Le quattro successive Eccetera Eccetera Per suddividere I carichi È quello Di assegnare Le fermate Ad ogni mezzo Anche perché Poi sappiamo benissimo Che ci sono anche Le dinamiche Del gruppo Dei ragazzi Io salgo Con l'amico L'amica Eccetera E quindi Questo qui Ci porta Un po' Di scompenso Ed ecco perché Sono necessari I famosi Quattro Cinque giorni Una settimana Normalmente Per riequilibrare I carichi Magari si assiste Nei primi giorni A dei mezzi Tra virgolette Abbastanza vuoti E dei mezzi Sulla stessa tratta Pieni Ecco Quest'intervallo Di giorni Ci serve proprio Per risudividere I carichi Ma i disagi Non si fermano qui Questa mattina Infatti A causa del trasporto Eccezionale Di un'imbarcazione Di notevoli dimensioni Sulla Flaminia In direzione Calcinelli In orario scolastico Alcuni autobus Diretti da Fano Ad Urbino Sono rimasti bloccati Impedendo agli studenti Di arrivare in orario A scuola Alcuni Hanno raggiunto I propri istituti A piedi Mentre altri Diretti a Urbino A Pesaro Hanno preso Il primo autobus Che passava Arrivando comunque In ritardo Tanta è stata L'indignazione Sia dei genitori Che dei giovani Che chiedono Che questo tipo Di trasporti Sia svolto In orari diversi Da quelli In cui i ragazzi Vanno a scuola I funzionari Della provincia E le autorità competenti Al momento Stanno provvedendo A fare delle verifiche Interne Finalmente Dopo mesi Di didattica A distanza Gli studenti Nella giornata Di ieri 14 settembre Hanno ripreso L'attività scolastica In presenza Seppur in modo Completamente nuovo La convivenza Con il coronavirus Infatti Ha sicuramente Modificato Le abitudini Di tutti Dalla scomparsa Del compagno Di banco Alla mascherina Alle rigide disposizioni Da rispettare Per preservare La salute propria Ed altrui Nonostante Le difficoltà Della ripresa E dai timori Che la pandemia Porta con sé I ragazzi Si dichiarano pronti Ed anche contenti Nell'affrontare Questa nuova esperienza Com'è andato Questo primo giorno Di scuola? Insomma Mi sono trovato Abbastanza bene Anche se i banchi Sono separati Comunque È fattibile È fattibile Ci stiamo Abituando Non è stato facile Però dai Abbiamo la maturità È molto complicata Esatto Trovate quelle nuove disposizioni Sono difficili Da rispettare Sì Ci sentiamo un po' Vincolati Diciamo Non possiamo uscire di fuori Dobbiamo sempre stare seduti Ci aspettavamo peggio Quindi dai L'importante è essere tornati a scuola Sì Insomma Rispettare tutte le normative È difficile Che sono attualmente Con questo coronavirus Però La scuola Sembra abbastanza preparata In alcuni casi In altri un po' meno Però È bello riprendere E tornare a scuola Dopo tanto tempo Che non si va Sì È andato bene Il distanziamento Diciamo che C'è Come ce l'aspettavamo Soltanto che Ci bisogna Po' Ci dobbiamo un po' Abituare Perché Non è proprio come Gli anni scorsi Quindi Troveremo comunque Il metodo Di finire quest'anno Anche perché il quinto È importante E noi ci impegneremo E anche i prof vedo Meglio didattica a distanza O quindi meglio essere in presenza No no Molto meglio essere in presenza Nettamente Perché la didattica a distanza Secondo me non funzionava Per niente Perché alla fine a casa Ti distrai C'è milioni di distrazioni Tutto quanto Le connessioni non prendono I professori non sanno usare computer E tutto quanto Quindi Molto meglio la presenza E Così sta funzionando Dai Non c'è più il compagno di banco Quindi Eh vabbè Ma comunque Il distanziamento Non è così grande Quindi ci può comunque Conversare con gli altri Senza compagno di banco Come ci si trova? Eh insomma È più difficile Passare le ore scolastiche Senza avere qualcuno Con cui confrontarsi Però comunque sia Dai Dai si fa Non è la fine del mondo Però è più difficile naturalmente Inoltre Per quanto riguarda i trasporti I pareri dei ragazzi Sono discordanti Il trasporto alla fine È come ogni anno Cambia poco Basta solo mettere la mascherina Con i trasporti Come vi siete trovate invece? Anche No io perlomeno Bene Perché comunque C'è l'autobus È sicuro Bene Invece no Per me è più complicato Perché comunque Le corriere sono piene Quindi C'è Un po' di assembramento Si fa comunque Avete un po' paura Oppure tutto tranquillo Secondo voi? No un po' di paura Ce l'abbiamo Però comunque Non si può neanche vivere Sempre bloccati Da questa cosa Quindi Un pochino di paura C'è però Cerchiamo di rispettare le regole Cerchiamo di rispettarle E con l'inizio delle scuole E con l'inizio delle scuole Riparte anche il servizio Di Hauser Fano Che garantisce La sicurezza Dei ragazzi Sugli scuola Bus Il servizio Quest'anno Sta richiedendo Uno sforzo maggiore E per questo È stato necessario Aumentare il numero Dei volontari Di 40 unità Un grande ringraziamento Per il senso civico Di tutti Ha detto Ivaldo Sebastianelli Responsabile dell'associazione E un invito Alle famiglie Finché spieghino ai ragazzi Le difficoltà Che si stanno vivendo E adesso parliamo invece Di campagna elettorale Perché sono apparse Nella notte Tra lunedì E martedì Sui volti Dei candidati Al Consiglio regionale Renato Claudio Minardi E Emanuela Orciani E anche nel volto Del candidato presidente Del centro-sinistra Maurizio Mangialardi Scritte Che richiamano Al fascismo X Leggio Qui a non Questa è la frase Impressa sui cartelli Elettorali Dei candidati Fanesi del PD L'atto vandalico Avvenuto tra via Campania E le mura Del bastione Sangallo E' stato segnalato Dallo stesso Minardi In un post Su Facebook Sono sconvolto E non ridito Ha scritto Minardi Anche la Orciani Esprime Il proprio sgomento Dichiarando che Nonostante il diverso Punto di vista politico Ognuno ha il diritto Di essere rispettato La frase Rimanda Anche alla teoria Di complotto Nata recentemente Negli Stati Uniti La lettera Q Infatti Starebbe per il nome Del personaggio misterioso Che ultimamente Sta pubblicando in rete Contenuti segreti Decisivi per il futuro Del pianeta Mentre Anon Sarebbe il diminutivo Della parola inglese Anonymous Che rimanda All'anonimato Del soggetto Che pubblica Le informazioni Anonimato Anonimato Che a quanto pare Dalle ultime notizie Insomma È venuto meno In quanto Si è riusciti A individuare Il protagonista Il personaggio americano Che appunto C'è dietro A questo sito internet Di complotti Che sta Avendo E sta spopolando Un po' In tutto Il pianeta Recentemente È stato intervistato Anche dall'emittente Bloomberg E Pare che questa persona Appunto Stia nel New Jersey E che Insomma Sia dietro Appunto A queste Teorie Complottiste Adesso invece Andiamo avanti Con il nostro telegiornale Parliamo di coronavirus Sono 14 positivi Registrati Nelle ultime 24 ore Dal Gores Delle Marche Il Gores Fa sapere anche Che sono stati Testati Oltre 700 tamponi I positivi Nel percorso Nuove diagnosi Sono così ripartiti 8 in provincia Di Ancona 4 in quella Di Ascoli Piceno 1 in provincia Di Peso Urbino E 1 nel Fermano Questi casi Comprendono 4 rientri Dall'estero Albania e Francia 5 contatti stretti Con persone contagiate Un soggetto Sintomatico Un contatto Domestico Un caso Riscontrato In una casa di cura E 2 ancora In fase di verifica I ricoveri Invece Salgono da 17 a 19 Con due persone In terapia Intensiva Ad Ancona Da oggi L'elisuperficie Di Pergola Sarà operativa Sia di giorno Che di notte Con attività Di elisoccorso E di protezione civile Ad annunciare al comune L'autorizzazione È stata l'ENAC L'ente nazionale Per l'aviazione civile Costruita Con fondi Della provincia In parte Della loro Comunità montana Del catre del cesano E grazie alla fornitura Di materiale ghiaioso Da parte del comune Ora è stato possibile Abilitarla Al volo notturno Con un finanziamento Della regione Marche Soddisfazione Per l'obiettivo raggiunto È stato espresso Ovviamente Dalla sindaco Di Pergola Simona Guidarelli E adesso Cambiamo pagina Sabato scorso Alla Villa del Bali Di Colli al Metauro La banca di credito Cooperativo di Fano Ha consegnato 145 bonus bebè Ai figli Dei soci E dei dipendenti Dell'istituto di credito È stata una cerimonia Diversa dal solito Ma nel pieno rispetto Delle norme anticontagio La banca di credito Cooperativo di Fano È tornata Ad incontrare le famiglie Per dare il benvenuto A 145 nuovi nati Con la consegna Dei bonus bebè Ai soci E ai dipendenti Del valore Di 250 euro l'uno L'evento Che era in programma Nel mese di giugno Poi slittato A sabato scorso Per il terzo anno consecutivo Si è tenuto Nella splendida cornice Della Villa del Bali Indubbiamente Il valore della famiglia Per noi È fondamentale Uno dei valori Sui quali È costruita poi La nostra banca Banca del territorio Banca dei soci E quindi sicuramente Riconoscere nella famiglia Un riferimento importante È decisivo D'altra parte Poi attorno alla famiglia Girano anche Tante iniziative Che sono iniziative Per favorire la crescita E l'attenzione Un po' Quelli che sono i valori Importanti Dall'educazione E tutti gli altri aspetti Diciamo Nel portare avanti La famiglia Con i valori E quindi sicuramente Di essere vicini Alle famiglie All'iniziativa Denominata Banca e famiglie Partecipanti Hanno ricevuto Uno zainetto E uno stuoino Per sedersi sul prato E fare un picnic Inoltre Hanno avuto La possibilità Di fare foto ricordo E visitare il museo E il planetario Abbiamo raggiunto Le numeri importanti Dal 2010 Abbiamo iniziato Questa iniziativa Banca e famiglie Abbiamo oltrepassato 1.300 premiati Per un sborso totale Da parte della banca Di 325.000 euro Quindi È un piccolo segnale Che vogliamo dare A ciascun nuovo nato Quindi alla famiglia Un sostegno Alla famiglia Nella logica Di uno dei principi Della banca È quello che è L'educazione A risparmio Iniziamo da subito Con un piccolo segnale Apprendo un libretto Nominativo A nome proprio Del bebè Inserendo la cifra Di 250 euro Un primo mattoncino E poi Lasciamo ai genitori Anche i nonni Di essere generosi Per poter Fare questo Questo processo Di risparmio Durante il pomeriggio È stato anche presentato Il nuovo corso Per neogenitori Sul tema La salute Del bambino Da 0 a 5 anni Che se la situazione Legata al covid Lo permetterà Sarà tenuto Dai pediatri Anna Elisa Pedini Gabriele Tonelli E Lisa Tonelli Nel mese di novembre Cosa buona e giusta Anche una banca Del territorio Che propone tanto Quindi da tanto Ed è una cosa positiva Essere soci Della BCC Ed oggi avete ricevuto Questo bonus bebè Sì Un bonus Una cifra simbolica Ma un punto di partenza Per i piccoli E quindi Una cosa importante Un libretto di risparmio Che si inizia ad aprire E mano a mano Si incrementerà Come è andata Questa giornata Ci siamo Siamo stati bene È stata una bellissima Esperienza E anche il museo Che sono delle cose nuove Ci è piaciuto E Alberto Anche lui Ha fatto qualcosina Anche se è piccolino Però siamo stati bene E questo era l'ultimo servizio In scaletta Tra poco Le previsioni del tempo Poi due speciali elettorali Condotti da Maria Elena Delbianco Con due candidati Alle regionali Il primo Renato Claudio Minardi E il secondo Lucio Pompili L'informazione torna domani mattina Invece alle 7 In diretta Con la Rassegna Stampa Grazie per averci seguito Arrivederci